La ricezione di Meyners sulla testa di Skorupa, che chiama in causa proprio l'olandese, una martellata in parallela, tintando il colpo in diagonale. La ricezione di Silla, Gennari per Ogbogu, palla questa volta troppo alta, non può forzare la statunitense, allora la risposta di Meyners è una gran diagonale quella dell'olandese volante. La palla torna di là, ci sarà un'altra possibilità per Conegliano, ancora Ogbogu, che muro di Florci Meyners a dire no! Il barocchiale per la stessa Meyners, però a piazzarla c'è Silla in copertura, con un passo di troppo nero in corsa, allora la risposta di Meyners in pallonetto delizioso di Florci Meyners.